RIS spedizione punitiva in due round a via dei concili, pronte le denunce per sette ragazzi avellinesi. I violenti sono stati identificati grazie anche all'aiuto delle immagini riprese dalle telecamere di videosoveglianza installate nella zona acquisita dagli agenti delle volanti di polizia che indagano su due episodi che hanno ferito il centro città. Tra gli indagati ci sarebbero anche dei minori, due ragazzi rimassi feriti nel corso della RIS, avvenuta sabato sera e successivo regolamento di conti di lunedì a mezzanotte. Ad avere la peggio è stato un 22enne presso calci e pugni, ricoverato all'ospedale Rummo di Benevento per un trauma oculare. Un 19enne presso a copie di cric, dopo essere stato sottoposto alle cure dei sanitari del Moscati per le conduzioni riportate, è stato invece dimesso. Le indagini sono ancora in corso, la dinamica dell'accaduto in parte è ancora da ricostruire. Al momento non è chiaro, il momento che ha spinto decine di ragazzi all'ondata di violenza che ha scosso l'intera comunità. Questa mattina in via dei concili, commercianti e cittadini hanno espresso la loro preoccupazione sul pericolo di deriva della movida cittadina. A tal proposito la Questura sarebbe pronta a intensificare i controlli delle pattuglie e delle volanti durante il by night del fine settimana. Credo che questa cosa testi un po' di preoccupazione perché ho un figlio di 18 anni che spesso frequenta questa zona e quindi mi lascia un po' di amarezza. Probabilmente forse manca un po' di controllo da parte delle autorità. Lei come padre cosa ha detto al suo figlio? Visto che è un abituale. Le solite raccomandazioni di stare attento, sperando nella responsabilità di mio figlio e nella sua maturità. So solo che questa strada da qualche anno, da quando è successo quell'episodio ha un brutto nome, ma non c'è difficoltà. Ragazzi durante il giorno sono tranquilli, c'è il passaggio normale che di sera io personalmente non posso dire niente, quindi dispiaccio che accadano queste cose. Ultimamente c'è da dire che anche con la chiusura delle scuole c'è un movimento molto forte di ragazzi, voi minorenni e voi ragazzi che vogliono vivere la serata qua davanti. È chiaro che nell'ultimo periodo c'è un po' più di movimento di persone. È logico che quando c'è movimento una parola possa tirare a un'altra e succedono degli avvenimenti come è successo l'altra sera. È chiaro che il tutto io credo che è sempre legato al concetto dell'alcol perché oramai la birra la fa da padrona ed è inutile dire che poi secondo me un altro dato di fatto è un po' di droga che sicuramente possa circolare in questi contesti della città. Non sempre accade però, spesso accade che c'è qualche rissa, c'è stato qualche furto e anche l'anno scorso una volta era un po' più tranquilla, nel senso che si dovrebbe dare un po' più di ordine a questa strada. Non è spesso però c'è. Io ho due figlie femmine che fortunatamente sono due ragazze tranquillissime ed escono qui la sera, mia figlia guida da sola, ha degli amici tranquilli. Sono ragazzi di una certa educazione. Io ritengo sempre che siano collegati ad un modo di vedere la vita e ad un'educazione che manca alla base.